57 giorni ragazzi 56 alle medie alle medie le mie relazioni d'amore duravano di più e non sto scherzando almeno a due mesi ci arrivano mesi pieni questo in meno di due mesi si è rotto coglioni della ripartenza dal basso e del portiere che deve giocare con i piedi di italiano questo in meno di dove si era già rotto i coglioni no a parte gli scherzi ragazzi acquisto e quei pochissimi quei pochissimi che mi seguivano nel mio programma radio la domenica e che avevano il cuor leggero la domenica da mezzogiorno alle due proprio nel pieno pranzo domenicale di ascoltare un bischero come me sapevano che io subito dal giorno 1 definì questo acquisto assurdo e inutile bello e inutile come le scale elicoidali del franchi proprio veramente sabiri ci è servito quanto le posate con la rosticciana o l'insalatina accanto alla bistecca la stessa utilità ma un acquisto inutile è sotto il sole ragazzi che italiano non si sarebbe mai servito di nulla desto giocatore poi ti sei trovato questa occasione fra le mani dopo l'ottimo mondiale del marocco non dei sabiri del marocco poi ci possiamo mettere andrà ambrabatte in mezzo ma il marocco sapere qualcosa di buono ha fatto vedere però ragazzi era un giocatore mediocre e soprattutto totalmente fuori ruolo perché non è che stiamo a sindacare il fatto che fosse un giocatore mezzo giocatore ma proprio il discorso che con italiano col gioco d'italiano veramente ci incastra come cavolo a merenda non c'entrava nulla addirittura italiano lo stava ripiegando come esterno per consapevando fallo giocare se non ci fosse stato barack e già barack giocatore di qualità più alta barack faccia già fatica a inserirsi ha fatto tantissima fatica a inserirsi gli schemi italiano figuriamoci un gioco un giocatore vado allora macchinoso un pallato come questo che viene la squadra come la sampdoria che è stata proprio l'apoteosi dell'anticalcio poi addirittura italiano dice è però nelle punizioni era forte sì come dire faceva care nel calcio da fermo almeno era buono qualche punizioncina si è visto anche noi nel pre gara nel pre campionato ma poi ragazzi se davvero se da perché poi nicola fiorentina è sempre sempre erometica no però se davvero è vera la storia che lui se l'è presa perché non è entrato contro i genoa o c'ha un cuore blu cerchiato una passione blu cerchiata da rivendicare ancora e portarsi dentro e quindi ci teneva tantissimo oppure ragazzi a ma chi cazzo scusate il francesismo b è la prima di campionato c'hai tutto il campionato che fai tarrabbi perché un giochi la prima di campionato c'è una roba assurda assurda addirittura c'è chi diceva è gioca esterno alto alla saponara fa il sapona ma scusa ma c'avevi saponara vai a prendere sabiri ragazzi adesso dirò una cosa molto gretta che a firenze si dice che ci sta molto bene tra saponara e sabiri c'è come trombare sta a guardare uno ha una qualità che pur avendo un'età avanzata la qualità fuori dal comune e te l'ha fatto vedere quest'altro mezzo giocatore ha fatto due settimane col marocco che era boh la squadra la squadra mondiale perché poi ho giocatore mediocre e tu mi vorrà di mica che che sabiri era era sto fenomeno addirittura come dicevo in italiano non sapeva proprio come come incastrarcelo ma ripeto ho sempre sostenuto il fatto che non c'entra niente con il suo gioco cioè non è colpa di sabiri che sabiri ha proprio a un tipo di gioco un tipo di giocatore che nella fiorentina non c'entrava nulla nulla e questa cosa chiaramente mi fa un pochino mi delude un po visto che c'è questo fulmine a ciel sereno un po mi delude visto quello che è stato l'andazzo di questo calciomercato occhio non sto dicendo perché è stato un calciomercato eccellente per tutto perché io gli ho dato tra il 6 e il 7 voluto fa un po il paraculo è vero però il 6 e la sufficienza minima il 7 se lo deve dimostrare il campo hanno gli ho dato 89 che ho letto certi commenti a meno male era un gran calcio per cari anzi gli ho dato tra il 6 7 mila 9 mila 10 neanche però gli poto danno insufficienza comunque questo se ne riparlerà avanti ma quello che dicevo l'allacciamento con sabiri è che questo calciomercato almeno a quanto ci raccontano è stato un calciomercato di grande condivisione tra il direttore sportivo anzi i direttori sportivi e l'allenatore dove la parte il capitolo sabiri stride e quindi mi viene da dire allora fino a gennaio scorso gli acquisti venivano comprati così cioè come come lo stesso sabiri c'è un'occasione che è capitata alle mani prendo lo piglio e si starà a vedere cioè la fiorentina non è una società per azioni che deve prendere giocatore deve prendere delle azioni per rivenderle farci le plusvalenze cioè deve prendere dei giocatori farli giocare e poi eventualmente parlare di un eventuale cessione futuro però non si deve comportare con una società per azioni si deve comportare come una società sportiva è un po è ben diverso il ragionamento comunque sabiri perché è stato preso ripeto probabilmente perché era l'occasione che ti trovavi in quel momento anche forse in virtù del fatto che nico gonzalez era sul piede di partenza quindi cercavi qualcuno di qualità e in quel momento era anche in ottima in ottima luce visto che c'erano tutti i riflettori del mondiale puntati su di lui è colto questa occasione hai ritrovato nico gonzalez che che ha deciso di rimanere e tutto e quindi l'hai lasciato alla samp però poi ti sei trovato sto problema in casa non pensavo e speravo che non durasse così poco però vedremo magari verrà sostituito con qualche svincolato c'è anche il pacco gomez c'è hazard cioè ce ne sono diversi tra l'altro c'è c'è anche anche da albert mi pare ma riprendiamo da albert così a caso va bene dai ragazzi commentate voi cosa ne pensate ha poi è andato anche via cocorino altro altro acquisto decisamente sbagliato forza viola jm grazie 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 grazie